Ciao a tutti, siamo alla Malpensa, termina l'1, io e il mio amico, in attesa del volo per Tokyo. Sono le 12.20 circa, l'imbarco ce l'abbiamo alle 2.10 e mi sono, avendo un po' di appetito, ho deciso di fare uno spuntino, guardate. Ora sto filmando con la fotocamera, con il cellulare mi riesce un po' difficile, faccio vedere, eccolo qua, la pizza, si beve ora, e il tè. Siamo stati da Torino, alle 10.00 circa, siamo arrivati qua in un'ora e mezza, in un'ora e mezza, due. Tutto tranquillo, nessun problema, abbiamo fatto tutti i controlli, controlli di sicurezza della polizia, passaporto, eccetera. E ora niente, aspettiamo il volo, una bella giornata e, che dire, siamo contenti di tornare in Giappone, ci aspettano 12 ore di volo, poi Narita e Tokyo con il Narita Express, circa due ore tra che scendiamo, tutto quanto, cambiamo i soldi, eccetera, attiviamo il pass. Poi, da Tokyo prenderemo lo Shinkansen per la prima volta, poi vi dico com'è, faccio anche un filmato là dentro sul treno, e con destinazione Shin-Osaka, poi con due metro arriviamo in albergo. Il viaggio sarà bello lungo, perché tra Tokyo e Osaka sono 8 ore e mezza di treno, quindi niente, che dire, per ora vi saluto. Ora faccio pranzo, vi inquadro l'aeroporto, nel nostro gate numero 6, non c'è nessuno, c'è una mosca che mi incina attorno, scusate. Allora, guardate, non c'è tanta gente, qualcuno, anzi, in questo momento, dietro di me, non c'è praticamente nessuno. Va bene, vi saluto, faccio pranzo con questa bella pizza Margherita, e ci vediamo poi sull'aereo, mentre volo ogni tanto filmo qualcosa, vi faccio vedere un po' anche il mio pranzo, come l'anno scorso, tutti i dettagli del volo fino a Tokyo. Ciao, ci vediamo in Giappone tra un giorno circa, ciao ciao!